Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Uno dei game show più popolari e amati dai telespettatori è quello in onda su Rai 1, che nel corso degli anni ha visto numerosi conduttori alternarsi al timone. Da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici, da Max Giusti a Flavio Insinna, da Carlo Conti a Pupo. Tuttavia, adesso il programma è stato affidato ad Amadeis, fresco del grande successo ottenuto a Sanremo. Questo show ha conosciuto un trionfo sempre crescente sin dalla sua prima edizione nel 2003. I concorrenti si spera di trovare la scatola contenente un premio di 300.000 euro tra le 20 disponibili. Mentre i compensi dei conduttori sono spesso oggetto di indiscrezioni, sorge la domanda se anche i partecipanti vengano retribuiti e, in tal caso, da chi. I partecipanti, chiamati pacchisti, hanno scatole con premi in denaro. Ogni concorrente apre via via ogni pacco, sperando di trovare quello con il premio più alto, senza conoscere il suo contenuto in anticipo. Tutto è lasciato al caso e alla possibilità di cambiare il pacco, su suggerimento del notaio, o di rimanere con quello originale. Ogni concorrente rappresenta una regione e si avvicenderà sul banco del concorrente per tentare la sorte. Ma chi pagherà la somma conquistata dal giocatore nel corso della puntata? E gli altri partecipanti ricevono un compenso? Si prevede che il notaio consegni al vincitore la somma in gettoni d'oro, mentre gli altri partecipanti ricevono un rimborso spese di 50 euro in gettoni d'oro. In alcune puntate, personaggi noti dello spettacolo hanno partecipato come concorrenti, e qualsiasi somma vinta è stata solitamente destinata in beneficenza.